L'avissariano cala il trista ai danni del real forino di mister Agostino Spica e continua la sua marcia verso i playoff mantenendo 5 punti di vantaggio sulle quinte Sant'Ommaso e Cervinara. Gli undici di Del Vecchio spingono dal primo minuto e portano il baricentro nella metà campo avversaria mantenendolo per tutta la gara. Ancora assente Di Biase e Di Tuccio insieme con lo scatenato La Pietra a prendere in mano l'attacco bianco-azzurro. La prima occasione della gara è per i padroni di casa direttamente sul calcio di punizione sulla palla a Mario Di Tuccio che però calcia fuori. La squadra continua a spingere e al minuto 22 va vicino al vantaggio. Verrilli scatta sul filo del fuorigioco e si trova tu per tu con Mazzone. La punta arianese con un dribbling salta l'estremo difensore e a porta praticamente sguarnita calcia addosso al difensore che salva sulla linea. Passano solo tre minuti ed è La Pietra ben servito da Cardinale a mancare il gol da posizione favorevole. Il suo tiro, dopo uno stop difficile, termina alla sinistra del portiere. In campo c'è solo la Vissariano ma le sue sortite offensive non si concretizzano. Alla mezz'ora ci prova ancora Verrilli dalla distanza, conclusione d'esterno-destro che viene deviata in angolo da Mazzone. Sul corner successivo Capitan Grasso ha sui piedi la palla dell'1-0 ma il suo tiro da posizione ravvicinata viene bloccato fortunosamente dal numero 1 del fuorino. Il vantaggio è solo rinviato allo scadere e porta il nome di Di Tuccio. La Pietra cattura palla a centrocampo e si invola verso la porta ma viene fermato fallosamente dalla difesa ospite. L'arbitro fischia la punizione, la mattonella è quella del numero 10 della Viss che con un tocco morbido batte l'incolpevole Mazzone. Undicesimo gol stagionale per Di Tuccio con dedica a sua figlia. Termina così il primo tempo. Nella ripresa la squadra di Ariano continua imperterrita negli attacchi ma nei primi 20 minuti non riesce a trovare il gol tranquillità. Ci prova prima Di Tuccio sempre su punizione ma Mazzone compie il miracolo alla sua sinistra. Il portiere riesce ad intervenire su una traiettoria velenosissima. Dieci minuti più tardi è spaccamiglio a calciare alto dal limite dell'area. Al minuto 65 poi, nella prima disattenzione difensiva dei locali, il rialforino sfiora il clamoroso pareggio. È il neon trato Schiavi ad impegnare Costaiola nell'area piccola dopo una dormita generale della retroguardia arianese. Lo stesso Costaiola, nell'azione successiva, sbaglia il rinvio mettendo la palla sui piedi di Zaolino che però non ne approfitta. Mister del Vecchio scuote i suoi dalla panchina, serve il 2-0 per chiudere i giochi. Il raddoppio che arriva ad un quarto d'ora dal termine porta la firma di Verrilli, fino ad allora abbastanza in ombra. Il giocatore riceve palla a metà campo e scatta veloce fino in area di rigore. Rientra sul destro e batte Mazzone. Rete importante sia per il match che per l'attaccante che ritrova il feeling col gol. A tre minuti dal triplice fischio poi, Verrilli sigla la sua personale doppietta, portando a sé le reti in campionato. Una vittoria dunque che tiene la vista salda al terzo posto a tre lunghezze dalla seconda Montesarchio. Quando mancano tre gare alla fine, la squadra di Del Vecchio tenterà a tutti i costi l'assalto al secondo posto. Di Biasi, il 3-0 rispecchia sicuramente la gara, però alcune partite vanno chiuse prima. Sì, infatti questa è stata la cosa che... la partita andava chiusa prima, però il pallino del gioco l'abbiamo avuto sempre noi. Sì, all'inizio abbiamo un po' steccato all'inizio, poi è andato bene tutto sommato, abbiamo chiuso la gara 3-0. Infatti la gara si è vista, era tutto in mani nostre, abbiamo chiuso 3-0, va bene così. A tre giornate dal termine cercate sempre di recuperare sulla seconda in classifica il Montesarchio. Sì, infatti oggi speriamo, non lo so ancora il risultato, speriamo che il Mazzini a meno riesca a prendere un punto in casa del Montesarchio per vedere di agganciare il secondo posto, che sarebbe una posizione più convenevole per gli scontri a play-off. Dopo le due giornate di squalifica ritorni a giocare la prossima di campionato. Meno male, sono passate queste due giornate, che al mio punto di vista e anche dalle altre persone, ingiustamente per aver ricevuto. Solo il danno che ho subito è quello di aver preso uno schiaffo, di non aver reagito perché si è visto e di essere stato squalificato per due giornate. Però tutto sommato è passato e domenica sono subito pronto a dare una mano ai miei compagni. Sul risultato di 1-0 siete andati vicini al pareggio, poi però la partita è trascorsa via con il 3-0 dell'Ariano. Sì, quello è stato l'episodio fondamentale della partita, anche se l'Ariano sta lottando per accedere ai play-off, quindi è una squadra ben messa in campo dal punto di vista sia tecnico che anche atletico. Noi purtroppo siamo là, al centro classifica, per salvarci e quindi continuiamo così. Se riuscite ad ottenere la salvezza per il terzo anno consecutivo farete il campionato di promozione. Sì, sicuramente, sicuramente ci attrezzeremo per fare un campionato il prossimo anno ad altissimi livelli, sicuramente. In settimana ha parlato Carpentieri, ha detto che nel futuro ci saranno grandi sorprese e forse verrà confermato in panchina lo stesso allenatore Spiga. Sì, probabilmente anche questo. A fine campionato la società sicuramente si siederà a tavola insieme a tutti i presidenti e tutti i soci per discutere soprattutto di fare una grande squadra per il paese, perché veramente se lo merita. Ci sta molto ma molto vicino.